Buongiorno cari amiche Peter Pan, finalmente sono ricominciate le nostre occasioni di convivialità e soprattutto sono ricominciati i battesimi. Allora vi voglio proporre per la vostra bimba oggi un brand italiano tutto elasticizzato, quindi un abitino mezza manica con la ruscia sul collo con un effetto poi di una rifinitura cucitura dorata con una doratura un po' opaca come vedete, quindi questo è un ottimo abitino che poi potete riutilizzare anche come camicia e con una culotte o un pantalone quando la bimba cresce. Un altro abito che vi voglio proporre è questo invece sempre di un brand italiano con la manichetta tre quarti in tulle e un tessuto morbido di tulle comunque elasticizzato con un ricamo davanti e pulito invece dietro con una sottogonna tutta in garza di cotone e questa è una proposta che c'è dal piccolino fino alla taglia grande 14 anni, quindi potete vestire anche la sorellina, eventuali due damigelle magari in un matrimonio oppure anche per il battesimo se volete vestire anche la sorellina con lo stesso abito. Questo abito poi è molto interessante perché lo possiamo aggiungervi una eventuale cinturina da chiudere in questo modo e diventa tutto tutto bianco, vedete? Oppure anche colorato così in questo caso oppure ci mettiamo un soltanto una rosellina con un nastro magari di raso con un eventuale ciocca dietro. Un'altra proposta che vi voglio fare invece è questo abito semplicissimo un made in Italy in sangallo, tra l'altro un'azienda con degli ottimi prezzi con una balza sul fondo che può diventare poi un abito sicuramente molto quotidiano anche per le uscite giornaliere con una sottoveste tutta in garza di cotone abbottonato dietro.